Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui per fare un video in cui vi faccio vedere le cose che ho comprato ieri perché sono andata a fare shopping e mi piaceva appunto farvi vedere quello che ho comprato. Alcune cose magari le potrò usare anche a scuola diciamo cose così. Allora sono stata in due negozi a H&M e da Primark e quindi vi faccio vedere prima la roba che ho preso da H&M e poi quella che ho preso da Primark giusto per non far casino. Allora da H&M ho preso questi pantaloni qua che sono jeans neri con una striscia calato appunto di tipo brillantini diciamo tutti neri e mi piacciono un sacco. Poi sempre da H&M ho preso questa maglietta barra camicetta diciamo di questo rosa antico tipo quasi lilla e appunto con la manica che in fondo diventa più larga diciamo. E mi piace un sacco. Poi sempre da H&M credo sia l'unica, cioè l'ultima cosa che ho preso da H&M se non sbaglio. Ho preso questa felpa qua appunto col cappuccio e adoro le felpe. E questa era l'ultima cosa sì che ho preso da H&M. Mi sono tipo abbassata cioè sono partita col video così e poi sono andato indietro così. Vabbè. L'importante è che si veda la roba perché comunque c'è una luce fantastica cioè adoro questa luce. Ah vabbè. Poi invece della roba che ho preso da Primark allora ho preso dei semplicissimi calzini tutti colorati però che adoro un sacco. Poi ho preso questi, oddio, questi pantaloni qua e appunto con una, adesso qua la luce inizia a fare gli scherzi ovviamente, con una striscia di pagliette che poi si possono anche girare e diventano argento e quindi boh mi piace troppo questa cosa. Poi ho preso uno zainetto ovviamente fucsia perché il rosa fucsia sempre con me e anche questo appunto mi piace moltissimo. E poi come ultima cosa ho preso questo chiodo. Adesso aspettate che mi metto in piedi perché sennò non si bella. Appunto questo chiodo normalissimo, nero. E anche questo appunto lo adoro tantissimo. E niente, questa era l'ultima cosa che ho comprato. Adesso ovviamente non mi sono abbassata altata così durante il video quindi vabbè però, ok? Spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. A breve posterò altri video che adesso vedrò quando registrarli, tra cui quello che mi chiedete ormai da troppo tempo, quello sugli esami di terza media. Vi assicuro che ve lo farò. Vabbè adesso anche magari provo a farlo prima che inizi la scuola, da me inizia il 16, però se non riesco a farlo prima che inizi la scuola, comunque verso i primi giorni di scuola dovrei riuscire a farvelo. Così davvero anche dei consigli per durante l'anno come, diciamo, come prepararsi meglio per l'esame. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Un bacione! Ciao! 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 Ciao!